Spedizionieri, commercianti, agricoltori, artigiani, cooperative ed autotrasportatori di Salerno insieme per dire no alla fusione delle autorità portuali della Campania. Su proposta di Asso Tutela, l'Associazione per la tutela e lo sviluppo del porto di Salerno, 18 sigle produttive dell'intera provincia. Da Confindustria a Confagricoltura, da Confcommercio a CNA, dalla Federazione Autotrasportatori alla Cidec, hanno firmato un documento congiunto alla Camera di Commercio e con l'ente camerale, un appello denuncia sui rischi contenuti nel progetto di riforma del sistema portuale italiano del Ministro del Rio, al quale è indirizzato, oltre che al Presidente della Giunta regionale della Campania De Luca e dal Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi. Non un'azione contro altri operatori della filiera dell'economia marittima e nemmeno contro lo scalo napoletano, ma una critica decisa all'operato del Governo che non risolverebbe i veri problemi della portualità italiana. Per le sigle firmatari del documento non si comprende il reale motivo di penalizzare un porto, come quello di Salerno, sesso in Italia per merci movimentate, 13 milioni di tonnellate ed in generale depotenziale l'intera Campania. Una cosa veramente folle, un progetto calato dall'alto dove forse c'è anche scarsa conoscenza di quello che avviene sui territori. Per farlo sentire in maniera così forte, così coesa, sia nella componente politica, quindi con la delibera dell'amministrazione comunale e oggi anche con la componente dell'economia della nostra provincia che c'è la voglia di fare, perché qui non stiamo parlando di fare barricate rispetto al non fare, noi siamo abituati ad avere successo tutti quanti insieme nella nostra provincia perché lavoriamo tanto, quindi la voglia di continuare a lavorare bene sui mercati internazionali per portare i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che sono poi l'espansione della nostra industria e del nostro commercio sui mercati internazionali. La regione secondo me dovrebbe fare di più? La regione oggi sta facendo molto, anche perché in realtà questo confronto non va presentato come la battaglia di Salerno, nel senso che parte da Salerno questa voglia di autonomia, ma in realtà è un discorso che dovrebbe appassionare alla stessa maniera tutti i campani, lo dico ormai da sempre, se ci sono regioni d'Italia sicuramente meno meritevoli della campagna dal punto di vista dell'economia marittima, che mantengono due autorità portuali, le ripeto proprio perché così lo sappiamo tutti, se la Liguria mantiene Genova e la Spezia, se la Puglia mantiene Taranto e Bari, se la Sicilia mantiene Palermo ed Augusta, la campagna che è sicuramente maggiore rispetto a queste regioni per ciò che riguarda l'economia deve mantenere le due autorità portuali, Salerno e Napoli, quindi non è un discorso contro nessuno, ma è un discorso che la campagna e i campani dovrebbero fare per difendere proprio la propria dimensione sui scenari internazionali. L'hanno fatto altre regioni, non vedo perché non dovrebbe fare la campagna.